cari fratelli e sorelle nerasurre sono don giginte è arrivato purtroppo è arrivato il giorno del derby e quindi siamo tutti belli 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 con l'ansia belli belli con la paura ma non perché abbiamo paura del milan perché abbiamo paura dell'inter quindi cari fratelli e sorelle nerasurre oggi poi anche una giornata triste anzi ieri visto che oramai quando vedrete questo video sarà già il giorno del derby ma ieri è arrivata una notizia che mai avremmo ci saremmo aspettati di sentire il nostro amato fratello mauro bellugio è volato in cielo e quindi anche nella mia preghierina ma non vi dico niente cominciamo a parlare del derby e della probabile formazione che metterà giù antonio conte quindi facciamo delle richieste come sempre al signore per i nostri giocatori visto che settimana scorsa ringraziamo il signore avevo chiesto o io sia io che don cherubino i gol dei nostri attaccanti sono arrivati quindi è giusto rendere grazie al signore per l'avvenuto successo diciamo successo quindi adesso dopo avere ringraziato torniamo a chiedere perché chiedete e vi sarà dato se sarà possibile quindi cominciamo ahimè con il nostro portiere andanovic che speriamo visto che si gioca di pomeriggio non si faccia una pennica anche al pomeriggio visto che già quando giochiamo alla sera ogni tanto si addormenta speriamo che alle tre del pomeriggio sia bello carico arzillo eccetera e riesca a fare una partita come con il napoli la gara casalinga con il napoli di andanovic è perfetta e mi auguro che da qui fino alla fine del campionato lo vedremo sempre fare partite molto molto simili o anche migliori perché no quindi preghiamo al signore affinché un'occhiatina di riguardo al nostro portierone la dia veniamo alla nostra difesa scrignia dei brai bastoni per ora sta andando molto bene però chiediamo al signore che non facciano strafalcioni particolari soprattutto bastoni quando è pressato bastoni la palla la deve buttare via perché se la perde prendiamo un gol come con la juve anche con il milan lo chiameranno giuseppe bergomi anche a lui visto che quelle cose le combinava sempre lo zio ricordo ahimè un passaggio a borgonovo nell'anno del record di punti 58 su 68 che regalò la pittoria alla fiorentina e ricordo ahimè un passaggio a versa che regalò il pareggio al milan un 2 a 2 di tanti tanti anni fa quando l'inter stava vincendo tranquillamente 2 a 1 bergomi si venne in mente di regalare il pallone a versa che pareggiò ahimè quindi speriamo che il signore guardi giù e i nostri tre difensori siano impeccabili come un muro di cemento armato ma ancora più potente cento volte il cemento armato in modo che così ibra e i giocatori rossoneri ci sbattano le corna visto che sono diavoloni veniamo ai due esterni e preghiamo il signore per akimi e perisic non che abbiano bisogno visto che stanno giocando piuttosto bene però quindi chiediamo al signore che li mantenga così visto che perisic e akimi le ultime partite le han giocate veramente bene forse un attimino meno akimi quindi un'occhiatina ad akimi mentre perisic è stato perfetto tatticamente perfetto e speriamo che sia tatticamente perfetto anche nel derby se poi dovesse segnare un gol di testa sarebbe ancora più perfetto veniamo al nostro centrocampo brozovic barella ed ericsson cosa dire chiediamo al signore anche se sarà difficile che brozovic barella non prendano il giallo e che ericsson bissi con un altro bel calcio di punizione ma stavolta nell'altro palo il gol su punizione che ha segnato già nel derby di coppa italia sarebbe una cosa molto buona bella e giusta una bella punizione anche per il portiere donna rumma visto che ha segnato all'altro portiere un gollettino per uno non fa male a nessuno su punizione quindi preghiamo al signore sempre se è possibile e nella sua infinita bontà concludiamo cari fratelli e sorelle nerazzurre con una preghiera particolare per i nostri due attaccanti lucacco e lautaro chiediamo al signore sempre nella sua infinita bontà di fargli ripetere la partita con la lazio magari stavolta con due gol di lautare uno di lucacco che così facciamo l'unplein anche se sarebbe tanta grazia sant'antonio detto questo cari fratelli e sorelle nerazzurre per rafforzare come sempre le nostre richieste al signore andiamo a leggere la preghierina che ho preparato che è quella rifatta da me e da don mario inter che va alla bisogna a prendere in considerazione la preghiera che nostro signore più di duemila anni fa ci ha lasciato e che noi io e mario inter ma ormai solo io visto che il cardinale mario inter ormai è in altre faccende affaccendato sta aspettando di diventare papa non lo fa più quindi cari fratelli e sorelle nerazzurre come sempre mi tolgo il cappello faccio vedere la scarsa crinitudine io purtroppo ce l'ho per fortuna don cherubino no e andiamo a leggere la preghierina padre nostro inter che sei nei cedi nerazzurre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno e fai tornare possibilmente anche quello dell'inter se poi fosse come nel 2009 2010 sarebbe molto bello ma purtroppo per quest'anno possiamo solo accontentarci o di vincere lo scudetto o di arrivare in zona champions il più presto possibile perché ahimè le altre due opzioni non ci sono più sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra ma soprattutto fai vincere l'inter la sfida nello stadio meazza di milano che si disputerà domani alle 15 anzi devo dire domenica alle 15 visto che questo video lo vedrete già domenica è quella che tutti i tifosi milanesi aspettano con grande tempi d'azione e questa volta non vale solo per il blasone cittadino ma anche per il primo posto in campionato inoltre è la sfida tra l'angelo nerazzurro contro il diavolo rosso nero quindi signore mica vorrai far vincere i diavoloni che già hanno usato essere maramaldi nella gara di andata in cui ci bancavano ben sette giocatori e hanno battuto la nostra amata squadra per due reti a uno quindi dopo esserci giustamente vendicati dell'ultima eliminazione in coppa italia vincendo due a uno un mese fa ad essere cosa buona e giusta che vengano giustamente puniti anche per la partita di campionato dello scorso anno perché ormai era di ottobre del 2020 inoltre caro signore volevo chiederti un occhiettino di riguardo perché oggi una bella signora una bella persona e un interista a tutto tondo è arrivato al tuo cospetto e quindi ci farebbe molto piacere se tu fossi molto magnanimo nei suoi confronti visto che prima di raggiungerti vero signore e tu lo sai molto bene ha sofferto tantissimo e quindi si merita tutta la tua benevolenza anche se sappiamo già che lui la girerà per una tua intercessione per la nostra e sua amata inter che nella gara di domani affronterà i cugini rossoneri dacci oggi la nostra vittoria settimanale e rimetti a noi i nostri tre punti come noi li rimettiamo alla nostra classifica in modo da poter essere finalmente noi a cantare la canzoncina della capolista che se ne va che stiamo sopportando da troppi mesi da parte dei tifosi dell'altro naviglio di milano e come sai signore un po per uno non fa male a nessuno e almeno finalmente si svegliano dal sogno e si rendono conto del loro effettivo valore che chissà come mai li ha tenuti lì per così tanti mesi comunque signore la cosa più importante che desidererei è che i due attaccanti Dukaku e Ibrahimovic al termine della partita indifferentemente dal risultato finale si scambino la maglia si abbraccino e non si debbano vedere nuovamente quelle brutte scene che si sono viste circa un mese fa nell'ultimo derby e soprattutto che sia una partita con tanta grinta ma senza cattiveria gratuita perché sia veramente uno spettacolo per tutti che riconcigli con il calcio non ci indurre in serie b ma liberaci dalla sconfitta contro il milan e anche dal pareggio ma soprattutto qualora ci fosse la possibilità di regalare un bel set alla squadra rossonera fa in modo che i nostri giocatori non si fermino visto che sono 20 anni che aspettiamo di restituirgli quello 06 di tanti anni fa volevo anche informarti a scanso di equivoci che la partita si giocherà alle ore 15 allo stadio meazza di milano e non come capitava spesso alla sera e anche se so benissimo che tu lo sai benissimo potrai essere presente almeno per il secondo tempo anche se so che sei molto molto impegnato amen bene cari fratelli e sorelle nerazzurre il nostro momento di raccoglimento è terminato potete andare in pace amen vi mando la mia benedizione come sempre a naturalmente rinnovo il consiglio che vi sto dando da tempo in memore e che funziona sempre ed è sempre utile credo che in vista di una partita così importante come il derby di milano questa opzione per evitare di rischiare anche le coronarie e che è utilissima anche per le questioni di salute non solo per evitare di dire parole poco simpatiche vi ripeto questo mio consiglio che vi sto dando da tanto tempo e quindi vi ricordo nuovamente il metodo di padre pedro alias baspencer rinforge l'altra guancia che è sempre lo stesso san camillo san camillo fammi stare un po' tranquillo san tommaso san tommaso or mi viene la mosca al naso san clemente san clemente fa che sia molto paziente che se perdo la pazienza devo fare penitenza detto questo cari fratelli e sorelle nero azzurro io vi saluto vi ringrazio speriamo in bene che il signore guardi giù e domani lautaro anzi oggi perché ormai quando vedrete questo video sarà già domenica speriamo che lautaro e lukaku siano belli in forma come nella partita con la lazio e regalino anche al milan tre belle perle non di saggezza ma di palloni da raccogliere nella porta detto questo buona bene buona partita a tutti e ci vediamo settimana prossima amen